La Costituzione prevede che le regioni possano chiedere un'autonomia differenziata, cioè più ampia di quella normalmente prevista dalla Costituzione, e che le avvicini alle regioni a statuto speciale. Queste autonomia maggiore è attribuita sulla base di intese, con intese tra lo Stato e le regioni, intese che devono essere approvate dal Parlamento con una maggioranza particolarmente qualificata. Tutto questo pone un problema, anzitutto si tratta di un tema che è di interesse nazionale, cioè di interesse anche delle regioni e delle altre aree del Paese che non partecipano a questa procedura. Ci sono anche dei limiti che vanno rispettati o delle finalità che devono permanere. Anzitutto l'eguaglianza dei cittadini e un pari godimento dei diritti civili e sociali. Non ci può essere una differenziazione che limiti il godimento di determinati diritti o lo accresca solamente per alcune regioni. Pensiamo alla sanità e alle prestazioni sanitarie che devono garantire a tutti le cure e non una differenziazione a seconda del loro luogo di residenza. In secondo luogo, l'attribuzione di un'autonomia differenziata implica naturalmente l'attribuzione di risorse. L'obiettivo delle regioni è quello di trattenere sul territorio il gettito o una parte del gettito delle imposte che vengono prodotte sul territorio ma questo non deve determinare uno squilibrio nel Paese. La stessa Costituzione prevede che ci sia un fondo perequativo che sia attribuito alle altre regioni per riequilibrare la ricchezza nelle diverse parti del Paese e richiede anche che sia mantenuta una solidarietà tra le diverse regioni e stimolato lo sviluppo di quelle più arretrate dal punto di vista economico. Perciò l'autonomia differenziata accresce l'autonomia che la Costituzione stessa prevede come un valore ma è possibile direi anche opportuna a determinate condizioni che non distingue il Paese in aree ricche, in aree povere che mantenga una linea unitaria nel Paese che non si trasformi in una direi divisione del Paese.